Confesso subito di essere tifoso della Juventus e dicendo questo posso proporvi ancor più con coscienza il tema odierno, che parte da un dato di fatto, Juve bilanci alterati. Conclusi le indagini preliminari, sto leggendo proprio da ciò che ci è arrivato anche in agenzie giorno dopo giorno, il GIP respinge le misure cautelari. Per Agnelli si parla di falso in bilancio, falso nelle comunicazioni sociali, false comunicazioni rivolte al mercato e sono tutte pugnalate. Sono queste le accuse formulate dalla Procura di Torino nei confronti di ben sedici indagati, tra il Consiglio di Administrazione e dirigenti con responsabilità strategiche e anche rivisori della Juventus dopo la chiusura delle indagini sulle famose, eccola la parola chiave, plus valenze. Allora, attenzione però amiche e amici, che siete tanti e sempre noi vi ringraziamo per il fedele vostro ascolto. Noi vogliamo partire da qua per fare un ragionamento su questo calcio malato. Credo che sia la più bella declinazione che noi possiamo dare a quel fatto di cronaca. Lo facciamo con un grande esperto, che sono veramente onorato di poter intervistare, oltre che ospitare. È l'avvocato Carlo Rombola, è foro di Roma, da diversi anni si occupa di diritti sportivi e non solo, si interessa anche del mondo, del calcio, è anche docente universitario e autore di numerose pubblicazioni, anche su questo versante. Sarà con noi dopo la sigla. Il benvenuto dunque all'avvocato Rombola. Buongiorno Claudio e gli ascoltatori, è un piacere essere qui. Allora, mi sono subito svelato come un tifoso da sempre della Juve, per cui sono lontano da ogni tipo di ipotesi, diciamo così semplicemente. Allora Carlo, secondo gli inquirenti, la società bianconera avrebbe alterato i bilanci degli ultimi tre anni, 19, 20 e 21, attraverso questi scambi tra i giocatori e la manovra stipendi nel periodo pandemico, anche tra l'altro. Ecco, allora, avvocato, le chiedo, forse così che tipo di riflessione ci fa fare questo dato di cronaca? Dunque, il dato di cronaca ci fa fare una riflessione che parte da un principio che deve essere chiaro a tutti, ovvero sia che la responsabilità penale e personale. Quindi tutti coloro che hanno agito in maniera tale da andare contro le regole, risponderanno personalmente della loro condotta. E questa fa una certa differenza, perché non ci nascondiamo, tutte le trasmissioni sportive hanno proposto tutta una serie di dibattiti e lucubrazioni su che cosa rischia la Juventus. In realtà, qui il problema è cosa rischiano coloro che hanno agito in nome della Juventus. Questo per dire che nel diritto penale, perché qui di penale stiamo parlando, non di sportivo, le persone hanno un'importanza maggiore di quello che può essere il riverbero nell'ambito puramente sportivo delle loro condotte. Quindi, fosse così, sicuramente chi è agito in questo senso rischia un rivio a giudizio, rischia un processo e rischia una condanna. Allora, Avvocato, va detto anche che bisogna anche tener conto delle dichiarazioni della Juventus. Arriva bene che l'amministratore delegato ha dichiarato. Come spesso succede in Italia, i processi si fanno prima sui medi e poi nelle sedie adeguate. Non è una novità questa. A seguito della comunicazione della procura, la società ha chiarito la sua posizione, vogliamo rispetto. Ora, con tutto il rispetto che si deve avere, insomma, l'immagine per il calcio non è certo una bella immagine o sbaglio? No, no, decisamente il fatto che ci sia qualcuno nel mondo del calcio che infrange le regole non dà una buona immagine di questo sport. Però il calcio, come spesso si dice, ma lo sport in generale è un po' una metafora della vita. Anche nella vita di tutti i giorni e in altri piani c'è gente che non rispetta le regole. Dall'automobilista che passa con rosso a mille altre situazioni della nostra vita. Quindi il calcio, purtroppo e per fortuna, non è niente di più che un'espressione dell'umanità, insomma. Eh vabbè, è detto così, andiamo sul filosofeggiare e quindi gliela passo avvocato. Però, ha già detto cosa rischia la Juventus. Ma ecco, allora, proponiamolo meglio la domanda che ho fatto prima. Che cosa insegna questo caso? Che insegnamento dovremmo intanto recuperare anche ognuno di noi? Allora, questo è un caso che ci dice tante cose e di conseguenza ci insegna tante cose. In primis, e qui sono d'accordo con la D, arriva bene, in Italia si chiacchiera troppo prima che i processi siano davvero conclusi. Mentre invece si dovrebbe parlare di colpevoli soltanto, attenzione, soltanto quando essi sono dichiarati tali. Per quanto riguarda invece i ragionamenti sulle colpe, credo che tuttavia, perché abbiamo parlato di colpevoli, parliamo di colpe che è l'argomento principale. E allora sì che io credo che si possano invece avviare delle discussioni serie, delle discussioni equilibrate su cosa c'è da modificare nell'attuale impostazione. Ed ecco che entra in quello che io avevo intenzione fosse il nucleo centrale del nostro incontro. Gabriele Gravina, presidente della FGC, dichiara Il calcio italiano è un malato grave. Serve una rivoluzione culturale. Le chiedo, avvocato, soltanto culturale questa rivoluzione? Certo anche culturale, ma soltanto? Allora, si parte sempre dalla cultura, però con un occhio anche alle norme. L'articolo 1, ad esempio, il codice della giustizia sportiva, è a questo proposito volutamente onnicomprensivo, allorquando dice che le persone e gli organismi comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, qui parliamo di FGC naturalmente, devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto, di natura agonistica, economica e sociale. Ecco. Chiarissimo. Io dico che se tutti gli operatori dello sport, e quindi atleti e non atleti, seguissero alla lettera questa regola, i processi sportivi non esisterebbero. Dunque, per tornare alla domanda, certo che serve una rivoluzione culturale, non fosse altro per il fatto che siamo noi esseri umani gli interpreti delle regole di condotta. Avvocato, una curiosità, non vorrei sbagliare, ma mi pare ci fosse un accordo tra la FIFA e la Federazione dei Cacciatori Professionisti diretto a ridisegnare, diciamo così, una nuova normativa sui trasferimenti internazionali dei cacciatori. Che fine ha fatto quell'accordo? Allora, dunque, permesso che questa è una domanda che chiaramente dovremmo inoltrare agli amici di FIFA e di FIFA Pro, quello che posso dire è che si tratta di un progetto importante e ambizioso, che come tale ha bisogno di tempo per la sua effettiva realizzazione, anche perché, ricordiamoci, che nasce da un contenzioso avviato dal sindacato, quindi alla FIFA Pro, e mai posto in essere. Uno dei principi cardine di quello che dovrà essere il nuovo regolamento sarà, pare, una maggiore facilità per i calciatori di risolvere i contratti in essere, soprattutto quando non sono pagati. E questo è un problema che riguarda i professionisti del calcio a tutti i livelli. Detto ciò, ricordiamoci sempre che si tratta di un accordo programmatico che si dà sei anni di tempo per realizzare il suo obiettivo, che è quello di rafforzare le relazioni tra le organizzazioni, quindi FIFA Pro, e migliorare la governance del calcio professionistico in tutto il mondo. Quindi, come dire, uno scopo, anche se vogliamo, altisonante, che però da qui a tradursi in regole immediatamente applicabili, necessiterà del proprio tempo tecnico. Beh, certo, senza alcun dubbio. Mi sembrava comunque che fosse abbastanza urgente, impellente, almeno a riorganizzare l'attuale modello del calcio mercato. Quanto critiche vengono fatte, eppure niente si sta muovendo al riguardo. Lo è, lo è. L'urgenza di ridisegnare anche un po' il modello del calcio mercato, messo, non dico in crisi, ma in discussione da quella che è stata la pandemia di due anni fa, però non vorrei tornare al discorso di prima, ma è sempre un problema di tempi, in questo caso di tempi tecnici, e non ci dimentichiamo, per corroborare un po' questa mia affermazione, che l'accordo di cui abbiamo appena fatto menzione ha fatto seguito a 18 mesi di negoziati tra la FIFA e le principali parti interessate al gioco. Facendo un po' di storia del diritto sportivo, anche le attuali FIFA Regulations of the Status and Transfer of Players nascono da un tavolo di lavoro che nel 2001 coinvolse anche la Commissione Europea. Quindi quando ci sono tante teste da mettere d'accordo, è chiaro che non è semplice stendere un progetto di attuazione e ancor più attuarlo effettivamente. Ma sento avvocato Rombolà, è davvero così difficile una volta per tutte chiarire gli indici di controllo per migliorare l'organizzazione delle società e soprattutto per mettere sotto controllo i costi, effettivamente. Sì, è sicuramente un'urgenza, anche perché è deprimente dover assistere al fallimento o alla rinuncia ai campionati di società, soprattutto nelle cosiddette serie minori, che non ce la fanno letteralmente ad arrivare a fine stagione. A tale proposito, devo dire che sono curioso e assolutamente speranzoso di ascoltare quelle che saranno le proposte di riforma ai campionati che interesserà il torneo di Serie C. Certo, è verissimo. Era una domanda che volevo oppurle, ma ha già risposto. Il tema, siccome si parla ormai anche un poco a proposito, slabrandone il concetto di sostenibilità, ma non le pare che proprio il calcio dovrebbe diventare un sistema sostenibile il calcio è l'unico modo per farlo sopravvivere. Fare sopravvivere il calcio è gli scossoni, che è questo particolare movimento storico dato dalla pandemia, che ancora è in corso, e dai contraccolpi economici che questa pandemia ha comportato, ecco, l'unico modo per salvare il calcio è renderlo sostenibile. I metodi sono tanti e passano da incentivi o sgravi fiscali o addirittura qualcuno ha parlato, io sono un convinto assertore dell'opportunità di incentivare delle forme di sostegno alle società come l'azionariato popolare. Quindi, insomma, ci sono diverse medicine per curare il malato, usando il termine che vedo qui giù nel video. Ma però basterebbe la volontà, che diventa anche volontà politica. Dice sempre Gravina dell'ultima citazione che le propongo, perché mi pare molto sintomatica ed emblematica, il punto di partenza è prendere coscienza del forte indebitamento e intervenire non più in modo estemporaneo per risuovere singoli problemi, magari trovando le solite scorciatuie, ma in modo sistemico e strutturale. Lo dice Gravina, che mi parla una persona seria. Allora, è secondo lei che dentro, anche sotto profilo giurisdizionale, la materia, secondo lei è una strada che si sta già intraprendendo o passata la bufera, come sempre succede in Italia? Dunque, la risposta a questa domanda potrebbe essere anche lunga. Provo a sintetizzarla il più possibile. Anzitutto, io personalmente ritengo che, oltre a chiarire, come dicevamo prima, gli imici di controllo, andrebbero anche resi più rigidi e selettivi criteri di trata nel mondo del calcio da parte degli investitori, esattamente sul modello inglese. Perché, se è vero da una parte che il calcio italiano ha bisogno dei cosiddetti business angels, o comunque di chi voglia occuparsi seriamente di calcio nel nostro paese, è anche vero che anche chi porta soldi dovrebbe rispondere a criteri di affidabilità sul lungo periodo. Ma tornando a Gravina, io approvo la sua scelta. Ma ricordiamoci anche che per un intervento del genere serve tempo, forse anni. In altre parole, programmazione. Ah, certo. Che ulteriormente tradotto significa fare una scelta adesso e sopportarne il peso della sua realizzazione. Dico questo perché in Italia abbiamo tanti pregi, ma a volte difettiamo nel portare pazienza, quella pazienza che serve per attendere che dopo tanto impegno i risultati arrivino. Certo, anche noi abbiamo tanti pregi, tanti difetti. Parlo di classe giornalistica perché una volta fatto il focarello che diventa un piccolo grande incendio, dopo si perde di vista la situazione, la si va a sgretolare e la visibilità cala. Mentre invece dovremmo anche noi tenere sempre sotto controllo alcune situazioni. Intanto, dice sempre Gravina, stiamo lavorando per la candidatura dell'Italia per l'Europeo 2032, ma sappiamo bene che ci stiamo per avvicinare a un mondiale dove l'Italia non c'è. Ecco, c'è anche quest'ultimo aspetto. Senta, Avvocato Rombola, è stato davvero un piacere conoscerla direttamente e parlare con lei. La tengo presente per altre situazioni se non le dispiacerà. Il piacere è tutto mio, mi tenga presente volentieri. Grazie e buon lavoro di cuore. A presto. A lei, a riuscire a tutti. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti